ben tornati nel mio canale youtube vi presento il primo ordine della campagna di aprile abbiamo due contorno occhi illuminanti della linea e new hanno un effetto schiarente sulle occhiaie e rendono più luminoso il viso abbiamo un massaggiatore per cuoio capelluto tre confezioni di cera da sciogliere al profumo di bucato una crema mani al melograno una crema per le cuticole uno smalto effetto gel che hanno la particolarità di rendere come gli smalti in gel senza però la necessità dell'utilizzo della lampada UV perché sono in realtà semplici smalti nonostante appunto l'effetto abbiamo anche il top coat della stessa linea abbiamo le forbicine per le unghie abbiamo ben due accessori per la pulizia delle spazzole abbiamo un levasmalto senza acetone che si prende cura quindi delle nostre unghie come sapete l'acetone le danneggia abbiamo un illuminante viso due creme idratanti per il viso con effetto colorato due maschere idratanti notturne della linea INU a base di acido ialluronico vanno messe la sera e danno, restituiscono quasi il 300% dell'idratazione alla nostra pelle grazie appunto all'aggiunta di acido ialluronico e di perle di buro di karité abbiamo quattro sacchetti profumo armadi al profumo di bucato abbiamo due matite contorno occhi della linea di Limmerstick sono matite contorno occhi in stick quindi non hanno la possibilità di essere temperate basta girare e esce in questo modo si evitano i problemi che hanno chiaramente le matite in legno con le varie schegge abbiamo anche una matita per le sopracciglia nella stessa modalità in stick un profumo da borsetta del nostro Far Away un profumo da 10 ml la palette ombretti della linea Wonderland di quest'inverno in tonalità Queen Bee quindi sui toni dell'oro abbiamo le perle di terra solare ottime per aiutare la pelle a essere più colorita la pelle del viso a essere più colorita abbiamo uno spray rilassante a base di lavanda e camomilla da spruzzare sul cuscino e nell'ambiente prima di dormire abbiamo bagno schiuma a base di fiori solari e acqua di mare acqua salata veramente ottima profumazione e me ne hanno presi addirittura tre confezioni sempre della stessa profumazione in linea questi sono quelli da un litro concentrati abbiamo anche quelli da mezzo litro sempre concentrati la particolarità di questi bagno schiuma come sapete è appunto l'essere concentrati con un tappino si fa un lavaggio completo di conseguenza serve molto meno prodotto da poter utilizzare abbiamo anche il profumo al frutto del drago e acqua di cocco sempre dello stesso tipo di bagno schiuma e ne hanno ordinati due e il profumo lavanda e muschio sempre della stessa linea poi abbiamo due shampoo balsamo della linea Avon Care Air Care da 700 ml uno a base di albifocca e burro di karité e l'altro a base di cioccolato e noce brasiliana abbiamo altri tre gel doccia della linea all'acqua di mare e fiori del sole in versione da 500 ml e in versione da 250 ml quindi ne abbiamo veramente per tutti i gusti la linea è per tutti è delicata sulla pelle a base di ingredienti naturali e in plafoni riciclabili questo è sempre una crema doccia della nostra linea a base di fresia e melograno di cui abbiamo anche il sapone per le mani con l'erogatore e abbiamo un sapone per le mani della linea alla lavanda poi abbiamo due candele della nostra linea Avon My Retreat una a base di lavanda e l'altra a base di agrumi sono entrambe della linea aromaterapica questa favorisce il sonno e questa è il buon umore sono candele in vasetto di vetro abbiamo anche della stessa linea gli oli essenziali da mettere nei nostri diffusori a ultrafoni e i prodotti diffusori a bastoncini poi abbiamo tre acque profumate della linea all'acqua di mare anche questa ottima da spruzzare va bene per il corpo per i capelli per l'ambiente per i tessuti e con questo vi lascio abbiamo concluso questo è solo il primo ordine di aprile verranno fatti altri ordini successivi a questo e vi farò vedere tutto quello che nel corso di questo mese verrò ordinato dei miei clienti come sapete per tutte le informazioni potete contattarmi nei contatti qui sotto il video vi auguro una buona continuazione grazie a tutti Grazie a tutti.